si dice spesso che siamo in un'epoca dove l'uomo forte o la donna forte domina il palcoscenico in cui la gente intesa come elettorato pubblico cerca queste figure che ti trasmettono maggior sicurezza e io ho un po' un'attesi sul perché l'uomo forte l'individuo forte è tornato ad avere questa fortuna e l'idea è questa siamo una società che sta rifiutando e demonizzando l'incertezza l'incertezza è sbagliata a priori quindi sentendoci sbagliati affidiamo le nostre certezze ad altri non so se la pensi allo stesso modo io la penso così ma nelle tirannie verresti giustiziato immediatamente per questa tesi perché è vera perché è vera anche perché diciamo la democrazia è a un percorso non lineare un po contorto cioè dove è fatto di accettazioni di discussioni di revisioni dove tu puoi dire la tua opinione la tirannia invece procede in maniera lineare e non accetta come dire divergenze di conseguenza in un'epoca come questa una persona che dice in maniera chiara perché questa è un'altra cosa molto importante tutti i tiranni e le tiranne perché ce ne sono tantissime un terzo dell'umanità oggi vive sotto una dittatura quindi è un numero sempre crescente purtroppo per l'umanità per fortuna per me che parlo di questi maledetti sono un po il bastardo hai sempre lavoro come i becchini c'hai sempre lavoro è così ognuno speculo su questa gente bastardo senza gloria quando c'è una persona che in maniera chiara gli spiega anche in maniera semplice una complessità perché la gente non ha più voglia di capire la complessità non ha il tempo e quindi probabilmente questo è anche uno dei motivi per cui certe persone soprattutto nella fase iniziale riescono a imporsi come delle persone affidabili a cui davvero c'è sempre questa roba poi l'uomo forte risolve cose no c'era un sondaggio del census in italia 2019 metà degli italiani pensava che l'uomo forte potesse risolvere i problemi ma c'è un assunto di base che è sbagliato l'uomo forte non risolve i tuoi problemi risolve i suoi i suoi certo quindi è incredibile che però questa fake news continua a essere fortissima e forse oggi capiremo e questo è interessante perché in realtà io credo che una porzione delle persone voglia che l'uomo forte risolva i suoi problemi voglio dire l'abbiamo visto con il silvione nazionale c'era tanta gente contentissima che lui risolvesse i suoi problemi sai perché perché c'è anche questo atto di medesimazione una persona che magari non non ha una propria identità non crede in se stessa ha una debolezza di fondo non gestita è contenta del fatto che il suo eroe utilizzi anche le risorse della comunità per accrescersi è quel senso di appartenenza che ci fa credere che la mia identità corrisponda alla bandiera a cui mi aggrappo che è un'altra forma di incertezza distorta se ci pensi certo e quindi su questo su questi su questi punti si fonda sono abbastanza convinto psicologicamente il la tirannia contemporanea anche perché i tiranni usano le stesse tecniche le persone che hai citato cioè il populismo e il populismo è una tecnica che comunque hanno inventato i tiranni nel passato quindi ciò che unisce certi leader democratici e certi tiranni è lo stesso tipo di comunicazione sì sì assolutamente e la cosa interessante è la cosa anche sconfortante che c'è un fil rouge c'è un partner sempre molto preciso dove noi possiamo riconoscere l'inizio una tirannia o l'inizio di una comunicazione che ha quello stile però continua a avere successo non riesce a fermarsi e soprattutto adesso dopo 80 anni di grande pace di grande benessere è incredibile che torna in discussione un modello che mi sembra che abbia avuto ha avuto i suoi meriti ecco voglio dire siamo qua a poter parlare di questa cosa sì sì e poi forse non c'è mai stato un periodo di pace così grande così esteso in tutto il mondo però lo stiamo mettendo in discussione grazie a queste persone che ci stanno facendo credere che dobbiamo mettere in discussione che il punto è quello i tiranni partono se pensate che c'era che da fin ricordo uno dei motivi quando è stato eletto ha detto la democrazia ha scritto anche questo libro bellissimo vi consiglio il libro verde dove lui spiega cosa è secondo lui la democrazia dice che è sbagliata perché se vince il 51 per cento l'alto 49 scontento una matematica cioè comunque diciamo se non non vai dentro questo tema e ascolti soltanto la superficie loro sono bravisti perché prendono le cose sono come i bravi comici sanno cosa pensa la gente certo sanno rigirare la frittata io prendo una cosa che sai che senti e quindi tu c'hai una connessione fortissima mi dai una spiegazione che non è deve essere plausibile certo però ha un senso c'ha un senso in qualche modo questa cosa ce l'ha un senso sì sì assolutamente anche perché poi la soluzione che lui propone è l'unica cosa sono i comitati popolari spoiler l'era il comitato popolari è lui è solo lui che da fi poi è uno che per esempio metteva le persone nei palazzetti dello sport quindi immagina un super bowl della tirannia funziona così gente nei palazzetti dello sport questo a tripoli arrivano i ragazzi di scuola elementari delle medie campo da basket come funziona il basket sotto che da fi non ci sono squadre c'è una persona legata a centrocampo che viene giustiziata questa è un po una revisione dell'emba canestro con un proiettile canestro con un proiettile questo è la democrazia secondo lui è vero è vero è una cosa che abbiamo dimenticato perché secondo me c'è un problema e questa è un po la patata bollente di oggi non siamo più capaci di riconoscere in noi le parti dei tiranni e questo magari lo tocchiamo adesso però prima giustamente intanto grazie per essere qua ai cocito studios è un piacere averti qua antonio visto che siamo qua per parlare di tirannia perché io ricordo antonio è autore di diventa un tiranno un libro che mi ha divertito tanto e al tempo stesso angosciato adesso vi spiegherò anche perché se vuoi raccontarti al pubblico visto che magari qualcuno non ti conosce che diavolo ci fai qua sono solo in molti io sono antonio lusito fra 40 anni secondo l'istat morirò questo dicono le statistiche e ho scritto questo manuale per diventare tiranni perché mi sono accolto che c'è mi sono accolto che c'è un algoritmo molto semplice che si ripete ciclicamente sono tutte e soli di tiranni contemporanei quindi non parlo dei totalitarismi dei regimi totalitari del novecento mussolini stanno mi interessa ne hanno già parlato in molti parlo di quelli di oggi quelli che governano ahimè poi in un anno come questo cruciale riccardo così cruciale perché 2024 metà della popolazione va a votare no grandissima anche democrazia tipo l'india allora ho deciso di fare questo manuale per far vedere come è semplice diventare dittatore puoi farlo anche tu purtroppo infatti io l'ho preso come l'ho preso l'ho preso come manuale cioè nel senso io ti dico sai si dice si dice 1984 non era un manuale di istruzioni un giorno diranno diventa un tiranno non era un manuale di istruzioni sarò alla guida dell'europa dicendo adesso voglio che il belgio si chiami du feristan cosa che è successa succederà cosa che sta succedendo insomma tutto in certi giorni ho preso come manuale questo libro senti una cosa interessante che avevo accennato è questa io nel corso della storia mi sono accorto che le varie figure a cui comunque tante persone si leggano per vari motivi e non solo tiranni ma pensa soltanto anche il serial killer pensa queste figure che creano questo fascino distorto il fascino del male direi in realtà sono importanti da studiare perché tu puoi riconoscere in te alcuni aspetti non so ti faccio un esempio sicuramente se tu vai a studiare ovviamente l'esempio perfetto è quello di hitler se studi la storia di hitler ti accorgi che una buona parte della sua figura poi così forte così determinata nasce da quel fallimento della sua passione per l'arte che non veniva riconosciuta e via dicendo quella è una cosa che noi possiamo riconoscere in noi oppure tanti tante figure violente terribili hanno portato tratti narcisistici e quindi noi possiamo riconoscere questi tratti nel nostro mondo mi sembra che molto spesso il tiranno sia un'opportunità per rispecchiarci e invece noi perdiamo quell'opportunità perché non abbiamo il coraggio di guardare dentro di noi quelle parti del tiranno che ci permetterebbero di orientarci e di accettarle e di accettarle quindi elaborarle certo è un bellissimo tema ed è vero in più ci aggiungo su hitler oltre alla frustrazione personale lui è stato bravo a cogliere la frustrazione generale un popolo che era stato umiliato no da da ciò che era stato deciso dopo la prima guerra mondiale quindi a pagare non solo i vertici della germania ma tutti i tedeschi sono stati umiliati lui ha sentito questa cosa ha associato la sua frustrazione a quella di un popolo che era frustrato come lui quindi era il leader perfetto per creare purtroppo un progetto mostruoso perché l'umiliazione in generale porta a questo ha sempre portato ai risultati terrificanti in più ci metto nella storia di tiranni che una cosa che a me fa volare delle storie che racconto è cioè ad esempio Tan Shui siamo in birmania in asia come ha fatto un postino superstizioso a controllare 50 milioni di persone incredibile Filippine parliamo di tiranni nelle Filippine c'è stata una tirannia una delle più crudelli noi guardiamo i paesi asiatici come paesi con grandissime tradizioni con una welcoming fortissima in realtà sono state tra le dittature più spietate nelle Filippine ci sono stati i Marcos una dittatura coniugale e ad esempio lei Imelda Marcos era una commessa squattrinata che pensa vendeva ai pianoforti nei negozi di musica lei quando qualcuno si metteva a provare il piano cantava per far vedere che questo piano guarda che bello se canti anche tu cioè come funziona bene questo piano poi col mio cantato quindi una commessa squattrinata come ha fatto a diventare una delle donne più ricche del mondo e tu pensa lì che è entrata nel Guinness dei primati perché alla voce la rapina più importante mai fatta da un governo cioè quindi stiamo parlando di una plutocrazia esagerata quindi come ha fatto Elena Ciausescu un'analfapeta funzionale che però ad un certo punto avrà 15 lauree personaggio incredibile peraltro io che in parte conoscevo un po' ma tu la racconti in modo veramente personaggio incredibile queste parabole sono le parabole è un viaggio dell'eroe stupendo è un film è un film che purtroppo ha un risvolto drammatico io poi ovviamente lo racconto con la satira perché è il modo più bello per descrivere questi maledetti cioè non c'è un modo perché inutile se punto il dito pare che non sono capace ma quindi con la risata infatti loro diciamo sono sempre dei tipi vermalosi la stand up in norcorea non funziona molto bene neanche in altri posti scusate mi hai fatto venire in mente una frase che mi ha fatto tanto ridere la megalomania a un certo punto dici è una caratteristica essenziale del tiranno la trovi sempre come l'orgio omosessuale per un parlamentare ungresi omofobo io li stavo 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 cappottando da ridere è vero è vero è vero hai citato peraltro hai citato il viaggio dell'eroe joseph campbell è uno dei miei autori preferiti ed è veramente così cioè la la storia della tirannida è letteralmente la storia molto spesso non sempre però molto spesso di un diseredato che vive un momento di difficoltà cade in un baratro e poi ha il momento di svolta momento di svolta non è quello del buddha l'illuminazione ma un momento di in cui non so il cinismo prende il sopravvento l'illuminazione non è quella del volemo se tutti bene ma è posso ammazzare tutti e mi andrà bene e lì c'è un percorso veramente di riscoperta di trasformazione è veramente un viaggio dell'eroe certo e che è un esatto che raccontano idealizzano mettono spesso perché spesso i tiranni fanno dei testi sacri che impongono al popolo dove c'è questa storia dove tu puoi connetterti con questa storia ma anche Gheddafi io racconto gli aspetti poco noti di Gheddafi perché mi interessavano più quelli quindi quando ha cercato di annettere un pezzo di puglia quando voleva cancellare la svizzera delle storie allucinanti a un certo punto manderà a napoli 800 persone e andreotti blocherà questo sbarco vabbè comunque una storia assurda Gheddafi era un morto di fame che viveva in una tenda beduina nel deserto e a un certo punto questo uomo è durato 42 anni non si è fatto fregare dal Mossad dagli stati uniti che l'hanno cercato di uccidere in tutti i modi ha fatto gli atti di terrorismo terrificanti è andato all'ONU dopo 40 40 anni che 30 anni che era al potere ha fatto un discorso pensate che aveva a disposizione 15 minuti ha fatto un discorso di 94 minuti in cui parte e dice allora anzitutto saluto mio figlio Obama perché perché lui semplicemente era di origine africana Obama mio figlio e poi inizia a dire tra le prime cose che dice cioè tu arrivi all'ONU non sei mai andato ti accoggono a parte che era tipo vestito come il cross player della morte tutto di nero una roba inquietante arrivi lì e dici allora per prima cosa vorrei riaprire le indagini sull'omicidio Kennedy wow ma perché perché come dico nel libro per diventare tiranni non basta la brutalità uno pensa il tiranno è essere cattivo anche se non siete cattivi se avete tanta creatività potete diventare tiranni per questo modo per esempio iniziare un discorso all'ONU cioè non al bar sotto casa con la grappa ma all'ONU è perché questo complottismo altra hard skill del tiranno cioè Gheddafi è partito lì quando è venuto a Roma Gheddafi che faceva queste conferenze private degli eventi degli speech diciamo dei TED di Remogi i TED di Gheddafi a cui io veramente vorrei no? i TED Daffi i TED Daffi era resistibile a questo e praticamente lui spesso con un casting di signorine che lui faceva fare alle nostre agenzie italiane a un certo punto lui a due passi al Vaticano ha detto sta roba che mi fa volare è un lancio di repubblica dell'epoca che dice spiega a queste ragazze che erano cristiane dice allora ma lo sapete che in realtà quello che è stato crocifissone era Gesù era un sosia e allora che bello cioè che bello fare una chiacchierata con i creativi di Gheddafi cioè tipo siamo qua e diciamo allora ragazzi andiamo a Roma cosa possiamo fare a Roma? allora Roma è città santa per due miliardi di persone Gesù Cristo beh Gesù Cristo sosia sosia come me peraltro cioè come hai capito? ma scusa cioè tu sei autore televisivo tu hai scritto per però ti è mai venuto a dire cavolo quanto sarebbe bello fare l'autore di uno come Gheddafi cioè nel senso tu immagini perché puoi fare è la satira perché questa qua è veramente una cosa di satira che però va al potere cioè quanto è lì capisci quanto è pericoloso oltre che prezioso è la satira quando viene presa sul serio certo e infatti guarda che questi legami pare siano esistiti c'era un mago che ha collaborato tanto con Hitler e gli ha dato degli strumenti proprio di capacità di illudere le persone quindi linguaggio magico c'è un libro di Giuliano da Empoli scusate un accademico italiano che lavora a Parigi molto bravo che ha scritto questo libro che si chiama Il Mago del Cremlino che parla proprio di questo romanzato però parla di questo rapporto tra Putin e un ex produttore televisivo che ha dato a Putin degli strumenti dello showbiz questa cosa è molto interessante anche perché un altro dato bello sui tiranni è che sono le persone più vicine all'innovazione nell'ambito politico i democratici sono 30 anni indietro rispetto ai tiranni esce una tecnologia, intelligenza artificiale il tiranno è il primo che la conosce perché il tiranno è in un angolo deve cercare strumenti per uscire dagli embarchi pensa a Kim Jong-un, è il paese più isolato al mondo il secondo è il Turkmenistan io parlo di questi due paesi perché sono delle ucronie di stupie stupende cioè l'armadio di Narnia tu entri in un altro però nel posto del leone c'è uno stronzo che ti spara esatto e viene giustiziato male c'è gente in Nord Corea c'è gente che pensa che Rambo sia come dire, lo stesso Kim Jong-un pensa che Rambo sia un personaggio realmente esistito dove succedono delle cose incredibili e loro hanno questa capacità di manipolare le persone e di trovare dei rimedi per uscire dall'embargo quindi per esempio Kim Jong-un già attraverso papà ha iniziato a spacciare droga cioè tante metanfetamine che molti italiani si sono prese negli anni 90 nelle discoteche che anche io ho frequentato probabilmente sono state fatte da patatone che io chiamo così Kim Jong-un che è lui da patatone sì sì perché patatone perché lui è il personaggio più disneyzzato del mondo cioè in un sacco di meme è vero e questo non è un soft power però no 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 assolutamente se ci pensi no lui Michele Pirla fa tutti tra l'altro ti salutiamo patatone sai che ti stimo e ti seguo da tanti anni ma se lui fa questa comunicazione c'è sempre un video di lui che sorride se ci va decato c'è sempre un video di lui che sorride in più ultimamente degli studiosi francesi hanno studiato un po' tutti i nuovi video di propaganda e pare si stia ispirando ai film americani e gli americani sono i suoi piacerimi nemici però sono anche il suo guilty pleasure è certo è il suo guilty pleasure dai io me lo immagino lui che si guarda i film di Jackie Chan e dice ah sì anch'io ecco facciamolo e ha fatto un video dove ha ripreso tutta l'estetica di Top Gun Giubini inquadrature l'hanno studiato e hanno scoperto che ha plagiato un po' Top Gun e poi questi francesi di Arte del Canarte hanno detto questa cosa bellissima che pare che una certa sequenza sia stata presa dagli spaghetti western all'italiana Sergio Leone ma di cosa stiamo parlando? lo usa allora e lui perché la usa? non per convincere i suoi perché i suoi ce li ha già ma vuole farci credere che in realtà quali sbagliati siamo noi cioè in realtà la Nord Corea non è così male tant'è che poi loro sono bravi e si aprono cannelli youtube per far vedere che le loro tirannie sono posti attrattivi Maduro tirando il Venezuela è partito da tre mesi con un podcast dove si connette su TikTok che ha una star anche credo grazie a Legami con la Cina ma una star mi do la cocaina ad altri peraltro mi sembra cioè ma infatti quando hai detto di Top Gun mi è venuto in mente questo connubio tu immaginati un'alleanza fra Kim Jong-un e Scientology perché ovviamente Tom Cruise diventa testimonia cioè meraviglioso meraviglioso Ron Hubbard in Corea del Nord diventa una sorta di sceneggiatura fenomenale chi li può fermare chi li potrebbe mai fermare quello che Marco dice è giusto perché tra di loro c'è un consorzio dei tiranni cioè a un certo punto nel libro parlo di questa scena che nel corso della guerra civile in piena guerra civile in Siria a Damasco viene inaugurata una piazzetta dedicata a Kim Jong-un che è il nonno di Patatone io dico ma come è possibile che venga fatta una celebrazione dei siriani che morivano di fame e di fame che cazzo mi fregava di questa piazza dedicata a un dittatore norcoreano allora lì a ritroso scopre che questi due popoli apparentemente lontani e che vengono proprio da due storie diverse comunicano in maniera strategica la Norcorea ha dato alla Siria degli strumenti per creare dei grandi laboratori di droga la Siria è il primo narco-stato affacciato sul Mediterraneo e come dico nel libro ha realizzato il sogno dell'andrangheta cioè in realtà ha tolto il sogno dell'andrangheta e la Siria in questo momento è il più grande produttore di Capdagon che è nota anche come la droga dell'Isis è un psicofarmaco che è stato tolto dal commercio tanti anni fa che loro hanno rielaborato ed è quello che ti prendi quando non devi provare emozioni quindi quando fai ahimè le cose brutte l'Isis ma ahimè l'hanno presa anche Michael Moore ci ha fatto vedere anche i Marines quindi questa droga loro l'hanno immessa nel mercato il più grande sequestro l'hanno fatto tra l'altro in Italia nel porto di Salerno 84 milioni di pastille e loro campano con questo e quest'idea però arriva dalla Nord Corea quindi quanto è bello anche il networking ma è vero perché guarda in questa cosa qua quando e questo si sente nel tuo libro sai in questo periodo si dice è tornato un mondo multipolare ma in realtà il mondo è sempre stato multipolare solo che per 70 anni i sistemi democratici sono stati talmente convincenti hanno avuto un'immagine talmente inscalfibile che tutte queste cose sono rimaste sotto traccia cioè gli Assad che collaborano con i Kim Jong i Putin e prima di Putin quelli che collaboravano con l'Iran e via dicendo ci sono sempre stati c'è sempre stato un mondo diverso la sensazione è che fosse un mondo che noi sottovalutavamo perché abbiamo sopravvalutato la democrazia e questo è stato il nostro grande errore sopravvalutando la democrazia è come se avessimo dimenticato che la democrazia in realtà è un sistema fragilissimo è un sistema che si sostiene veramente sul pluralismo in cui se uno degli ingranaggi viene meno tu rischi di avere un effetto domino ed è esattamente quello che abbiamo visto col covid quello che stiamo vedendo anche con la guerra in Ucraina e questo è è un fatto di cui ci stiamo rendendo conto e forse non siamo neanche così veloci a gestirlo questo fatto perciò di nuovo torna molto forte il discorso che facevo prima cioè su quanto è necessario riconoscere studiare queste cose e riconoscere quali aspetti di questi personaggi che sembrano distantissimi invece fanno parte di noi perché credo che sia questo l'unico anticorpo per la democrazia sì possiamo distinguere in anticipo in più la tirannia è arrivata alle porti casa nostra fate conto che l'Ungheria da un anno e mezzo il Parlamento Europeo ha stabilito che non è più una democrazia completa Orbán è un poi una sorta ormai di burattino di Putin Xi Jinping che però è una spina nel fianco dell'Europa cioè condiziona le scelte quindi non è più una roba esotica come la papaya diciamo la tirannia chi se ne frega è lontano in realtà è vicino a casa nostra e ci sono dei modi per distinguere in anticipo perché la cosa è incredibile guarda adesso mi stavo accorgendo Milei il grande premio era argentino sta facendo le stesse identiche tappe di Bukharam che è un tiranno dell'Eco di cui io parlo sia su Tirani che su Diventa un Tiranno lui è bellissimo perché era uno che di base voleva fare la pop star e il tiranno è stato il piano B già questa è una cosa fantastica ci sta però era uno che cantava la prima cosa che ha fatto è fare un CD quando è stato un campo di sapoli dava i premier tu immagina questo se incontrava il presidente del Consiglio Italiano o comunque questo è il mio CD senti i miei pezzi dimmi poi cosa ne pensi un personaggio così allora Milei sta facendo lo stesso percorso di Bukharam Bukharam è salito al potere con questo dominio populista perché poi è sempre quello il gioco si faceva chiamare il loco il pazzo Milei la stessa cosa in campagna elettorale Bukharam si è vestito da Batman usando tutta quella retorica Milei mi ricordo aveva un nome comunque tipo era capitano anticapitalista ok trovate un sacco di video così prima cosa che ha proposto Bukharam la dollarizzazione dell'economia lo stesso sta facendo Milei a pochi chilometri di distanza diciamo nello stesso continente sta facendo esattamente le stesse cose questa storia di Bukharam è successa nel 96 tra l'altro verrà destituito per instabilità mentale un'altra cosa che mi fa volare cioè c'era veramente il loco si è preso troppo sul serio è troppo anche come tiranno cioè sei andato troppo sul serio però capito sono partner che ritornano e se uno a distanza di 30 anni rifa le stesse cose con gli stessi nomi con la stessa sceneggiatura e funziona certo in un altro paese c'è qualcosa di forte in questo algoritmo però si può vedere si può vedere si può vedere no infatti parlarne ti permette da un lato se ne hai il coraggio di riconoscere in te quelle parti che magari puoi riconoscere ed evitare dall'altro potrebbe anche darti l'idea giusta perché io ho preso questo libro come manuale infatti noi stiamo iniziando il nostro percorso per diventare dei tiranni e questo percorso si chiama Cogito Academy una scuola di filosofia pratica pensata sul modello delle accademie stoiche dell'antichità ma che sfrutta tutti i mezzi che il terzo millennio ci mette a disposizione una scuola che ha l'obiettivo di trasformare la vita delle persone per mezzo della filosofia sfruttando internet con video lezioni e contenuti multimediali e ovviamente attraverso l'esperienza con corsi incontri e seminari dal vivo in tutta Italia una scuola vera e propria che produce contenuti di livello accademico con il coinvolgimento di professori esperti e grandi personalità ma non con l'obiettivo di fare accademia l'obiettivo è quello di cambiare la vita ecco questa è la Cogito Academy ed è proprio il momento di cominciare sai leggere il tuo libro a me ha fatto venire in mente un autore che io amo molto che è David Foster Wallace Foster Wallace nel suo Infinite Jest a un certo punto immagina quello che succede in una società dove l'intrattenimento è diventato la patina di ogni cosa ok quando appunto l'Infinity Jest questa necessità di sembrare sempre belli sempre sicuri sempre forti ti porta in realtà a delle pratiche che favoriscono il sorgere di pensieri distorti e anche di tiranni di personalità che magari vogliono farti del male e io credo che un po' questo nuovo momento questa nuova fortuna del tiranno sia legata al fatto che noi viviamo un'epoca in cui vogliamo solo divertirci le cose serie ormai non si discutono più sui giornali la parola morte o suicidio vengono messi o con l'asterisco o non vengono messe quando si parla di cose grevi importanti pesanti però si cerca di farlo sempre con un modo sempre divertendosi ok ti parlano di una tragedia devastante e poi ma adesso passiamo allo sponsor di oggi cioè tutte cose del genere ok ah sì come nel film di Di Caprio esatto esatto e un po' questa cosa ha iniziato a farmi riflettere perché credo che il divertimento onnipervasivo abbia spento quella capacità di pensiero critico che ci permette di individuare le cose serie perché quello che porta un tiranno per quanto sia satira per quanto sia è loco però sono cose molto serie molto umane e tu hai lavorato e lavori nel campo dell'intrattenimento allora vorrei ragionare sul connubio fra tirannide e società del divertimento che secondo me in questa epoca è molto molto stretta sì cioè allora secondo me ci sono è un discorso complesso quindi allora innanzitutto i tiranni sono bravissimi a usare l'intrattenimento per creare empatia col popolo non per niente ad esempio i tiranni vi dicevo prima Imelda Marcos con il suo marito questa tirannia coniugale finisce in 1986 vanno in esilio perché il popolo li voleva ammazzare a un certo punto ritornano da questo esilio tra l'altro dorato all'Hawaii con la compiacenza di Reagan eccetera eccetera e oggi immaginate che il presidente delle Filippine si chiama Ferdinand Marcos che era come si chiamava suo papà suo papà è stato il loro Mussolini quindi è uno che ha fatto per undici anni la stessa legge marziale come è possibile questa cosa è stata fatta grazie all'intrattenimento per tornare alla tua domanda le Filippine hanno un popolo molto giovane sono tantissime under 40 che non conoscevano la storia degli anni 80 i tiranni grazie a una factory creativa hanno messo in piedi dei rill in cui hanno spiegato che l'età della dittatura in realtà è stata l'età del loro e c'erano questi video di Imelda che ballava con i presidenti degli Stati Uniti che andava alle feste con Andy Warhol perché loro erano bravissimi allora questo è un modo di utilizzare l'intrattenimento tornando diciamo al nostro secondo me un certo tipo di intrattenimento è servito a spegnere le sinapsi un altro secondo me è ad accendere c'è tipo la satira continua a essere uno degli strumenti più pericolosi tant'è che in tutti questi paesi sono tra i primi bersagli giornalisti e gente che fa ridere di recente c'è stato anche un comico in Egitto che è stato che ha passato dei guai dei grandi guai poi ha iniziato a fare spettacoli in inglese e lui ricorda anche che poi quando è stato arrestato in Egitto c'erano però poi i secondini dicevo scusa mi rifai quel pezzo perché faceva veramente ridere però quanto è pericoloso quanto è pericolosa la satira e quanto invece al contrario apre poi quella cosa io mi ricordo un libro bellissimo mi ha piaciuto tanto era quello di Jonathan Swift una modesta proposta in cui spiega per criticare il colonialismo britannico degli inglesi lui era irlandese dice ragazzi c'è un modo per far andare avanti la nostra economia mettiamo mangiamo i bambini grassi irlandesi lui era irlandese i poveri i bambini il libro di satira è un manuale appunto una modesta proposta con delle istruzioni dettagliate per cucinare questi bambini nel 1700 dove all'epoca il regno unito la regina e il re di turno erano spietati come dittatori di oggi c'è un dissidente imprigionato e morto c'era il pluralismo quindi ecco quel tipo di cosa e ancora oggi la vediamo dopo 300 anni come un faro a me quella roba mi ha ispirato tantissimo dentro ho agito questa roba perché chiaramente ma ho sentito proprio cioè quel linguaggio paradossale che poi era quello che usavano i grandi autori sotto il fascismo le grandi scuole di satira in Italia nascono agli anni venti proprio perché c'erano così tanti paletti che tu dovevi trovare degli strumenti sempre più più come dire meno dritti cioè sempre più laterali e lì sono nate le scuole di satira importanti perché se no morivi cioè non è che cioè morivi oppure andavi a Carbonia andavi alle Tremiti dove ti prendevi la tubercolosi insieme a dissidenti omosessuali che venivano deportati ecco queste sono armi di cui i tiranni sanno benissimo e sono pericolose perché la derisione è come l'umiliazione noi torniamo al discorso di prima è un'arma ferocissima infatti infatti il termine secondo me cardine non è tanto intrattenimento anche se anche intrattenimento è una parola un po' particolare però è divertimento perché una modesta proposta non è un libro che diverta ovvero non è un libro che ti fa e va perché il divertimento ha questo aspetto il divertimento ti solleva è la risata che ti solleva che ti allontana dalla realtà e molto spesso il divertimento è quello del meme io faccio spesso l'esempio l'esempio che ho in testa è nel 2010 2011 quando ci fu quella foto terribile del bambino a Ilan quello che era spiaggiato sulle coste turche io ricordo perfettamente che il pomeriggio stesso Facebook era invaso di meme che non facevano ridere erano battute scaborose con gente che scriveva sotto ah 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 io me li immaginavo che scrivano ah serissimi a guardare che è la risata che ci allontana dalla realtà la risata è il divertimento inteso come difesa dalla realtà c'è un bellissimo libro che ti consiglio se non lo conosci che è divertirsi da morire di Neil Postman è un libro degli anni 80 di questo marxista intelligentissimo che parla del fatto che il problema del nostro mondo è che abbiamo fatto sì che il divertimento diventa un valore un valore etico ok se ti diverti la cosa va bene ma non è vero perché in realtà il divertimento quando non è intervallato da momenti in cui tu dai alla realtà la sua giusta serietà diventa un'evasione continua la satira per quella che tu hai espresso Jonathan Swift mi vengono in mente Carlin mi vengono in mente tanti grandi autori che io amo moltissimo lo stesso Baudelaire ha scritto delle cose di satira che sono meravigliose qui ho un libro che piccola parentesi ho un libretto che poi ti faccio vedere non so se lo conosci ma è Don Sculacciabuchi è un libro di satira toscana di fine ottocento ok che prende per il culo un processo a un prete pedofilo ok è un libro incredibile tutto in rima una bomba ed è stato scritto da quello che 25 anni dopo sarà il ministro di grazia e giustizia del governo Giolitti cioè tanto per dirti dove arriva la satira in Italia ok scusate questo lupo benjamin flanklin quello che è sui 100 dollari autore di satira autore di satira straordinario peraltro ecco questa satira non è divertente perché è la satira abrasiva è la satira che ti dice ah questa ha fatto male mi fa ridere ma una risata in cui io sono l'incordato la satira non è meme bravissimo la satira non è meme questa è fondamentale e questa cosa è agghiacciante quella che dici tu è agghiacciante anche quando è morto Navalny di recente sono partiti i meme e mi sono sentito male perché non è possibile elaborare tutte le tragedie con una risata la satira non fa questo anche perché la satira come diceva Lenny Bruce tecnicismo però è vero è tempo più tragedia esattamente ok quindi non si può ridere di una cosa così grave quando è successa così non si può cioè è una regola che va contro la satira io sono cioè anche twitter prima della svolta era un posto dove per forza bisognava essere spiritosi quindi anche questa gara continua per raccontare la propria vita in maniera spiritosa sempre che è poi è un senso di competizione di insicurezza no che palle questa roba che poi è travalicata anche negli altri social ecco questo questo divertimento usato così è black mirror certo e mi disgusta perché non è possibile io poi cerco di spiegare al mio algoritmo cioè all'algoritmo che mi sono e dico ma questa la mi fa cagare non voglio vedere questa roba sia su tiktok sia su cioè perché è respingente ed fa parte di un alto ombrello come dicevi tu sì sì è la rapidità cioè nel senso il fatto che e di nuovo è la fuga qualcosa accade qualcosa mi colpisce cos'è che faccio ho due scelte uno è attraversare quella sensazione e quindi stare lì e pensarci e se ci penso se ho un certo umorismo magari con il tempo ne tiro fuori anche qualcosa che sia umoristico ma che non sia una fuga da quella da quella cosa che mi ha disturbato l'altro atteggiamento è quello di dire ne rido subito perché diventa una sorta di esorcismo ecco la risata come esorcismo secondo me è uno strumento incredibile ma subito no subito perché non l'è elaborata esatto quando la rapidità la rapidità è strumento del potere sono d'accordo e quel punto è un modo che poi io credo che ci siano dietro anche siccome appunto soprattutto i tirani sono bravissimi nella propaganda hanno proprio degli uffici adibiti a questo dove ci sono proprio delle fabbriche dei troll noi conosciamo quella di San Pietroburgo di Puti ma ci sono a Riyadh quindi tu scrivi una cosa sbagliata e partono tutti i troll no ci sono a Riyadh ci sono in India ci sono inchieste di Washington Post e New York Times che hanno proprio tanato queste fabbriche anti e uno dei modi è proprio la derisione quindi io sto dicendo una cosa importante che ne so sul giornalista è stato fatto a pezzi in Turchia boh parte un imeme parte la satira su quel giornalista perché quel tipo di satira di battute su quel giornalista quel tipo di risata cancella svilisce il dibattito lo porta sul terreno della comicità stupida e lo cancella perché la data veramente lì seppellisce e questo è un tema importante a cui forse dobbiamo anche un po' disabituarci e un po' ribellarci a questa battutella da tre soldi ti faccio anche un altro esempio uno dei miei primi lavori 2001 io lavoravo per un posto che si chiama mai-tv.it era la prima tv sul web in Italia partecipo a questo progetto dove c'era un cartone animato che si chiamava Gino e il pollo non so forse i più anziani abbiamo fatto questo cartone animato che si chiamava Tuo Fauta Lebano cioè praticamente era un cartone animato che nasceva un po' alla Griffin diciamo cartone animati per bambini che in realtà sono per adulti c'era questo personaggio questo pollo toscano che raccontava delle storie e prendeva in giro l'attualità dal punto di vista di un gallo di un pollo quindi già come dire si fa un passo sono un pollo questa è la mia realtà facciamo questo cartone animato che si chiama Tuo Fauta Lebano diventa il primo viral italiano in un'epoca pre-social che anno era? era il 2001 erano cadute le torri gemelle da due mesi e mezzo tu te lo ricordi Valerio se lo ricordi lo trovate su YouTube Tuo Fauta Lebano cosa succede che noi facciamo dopo due mesi e mezzo da quella tragedia io che ho vissuto il 2001 le torri gemelle quella cosa è stato proprio uno spartiacque che poi ha creato anche il populismo di oggi questo è un altro dato molto importante molto bello allora noi abbiamo fatto un'operazione dove Tuo Fauta Lebano se lo vedete prendiamo in giro Bin Laden in un momento in cui il mondo aveva paurissima del terrorismo islamico in cui iniziavano già la gente non prendeva la metro a Milano e Roma perché poteva accadere cioè quindi avevi paura perché era una cosa poi che non conoscevi non conoscevi l'isla non avevi mai sentito parlare cioè soprattutto in Italia che non sappiamo niente dell'estero della cultura estera a differenza di altri paesi che invece hanno già delle insomma sono multietnici cosa succede noi facciamo questo cartone animato che va benissimo esplode esplodono proprio i server tu pensa era un file exe che ti arrivava via posta veramente ero geologico che fa ma la satira non deve sbagliare mai Mira noi cosa abbiamo fatto io ero piccolino quindi ho partecipato proprio a lato di questo progetto e Gino e Pollo ha preso in giro Bill Laden per quello che era uno spacciatore internazionale cioè tu predichi l'integralismo religioso ma in realtà campi con l'eroina che fa in Afghanistan e quel tipo di non dirò mai narrazione scusate quel tipo di punto di vista era molto bello perché il re era nudo ti prendo in giro per quello che sei un pusher che ce l'ha fatta e che come dire l'insegno del negozio è religione ma la vera attività come diceva White è train spotting in Pakistan esattamente e 80% di l'eroina ancora oggi viene prodotta lì ok allora questa cosa ha funzionato perché noi non siamo andati a parlare della tragedia perché stiamo parlando di più di 3000 morti perché stiamo parlando di una cosa non siamo andati lì siamo andati a colpire il potente il diavolo del momento era Villane l'ha stati era stata fatta su di lui ma erano passati i tre mesi se avessimo fatto quella roba che era giusta il 12 settembre non sarebbe successo niente no ma non avreste neanche avuto il tempo di elaborare quella cosa cioè nel senso alla fine io credo che anche questo si connette al tema iniziale quello dell'incertezza beh questo io veramente sono convinto che sia una delle perdonami brutta parola missioni del nostro tempo cioè tornare a dare valore al fatto che pensare ha una sua durata cioè nel senso quando tu vedi qualcosa fai un'esperienza ascolti vedi una serie tv devi prenderti del tempo per capire quello che ti è successo per capire cosa trarne oggi noi vediamo un film e la prima cosa che vogliamo fare spesso anche senza aver finito il film è scrivere il post su facebook immediatamente ok appena finiamo di ascoltare un podcast ne abbiamo subito un altro quindi non solo dimentichiamo quello che abbiamo sentito ma non ci diamo neanche quel tempo quella durata necessaria per lasciare che la mia testa elabori perché non lo facciamo perché siamo da soli nell'elaborazione e quella solitudine necessaria ci spaventa perché sappiamo che non abbiamo garanzie di capire siamo di nuovo incerti e noi vogliamo quindi venire riempiti di continuo rumore perché il rumore alla fine è una certezza assoluta tu sai che avrai sempre qualcosa da sentire ascoltare e tutto è diventato rapidità nell'informazione infatti io stimo molto i ragazzi del post ok perché nel post lo hanno sempre detto noi facciamo slow information nell'epoca della fast information dove ormai una notizia è come un big mac noi ci prendiamo il tempo e quando c'è la notizia che colpisce tutti quanti noi facciamo due verifiche in più che è quello che servirebbe e oggi se tu fai questo discorso vieni tacciato di ingenuità sei un po' naif ma sì dai ma che boomer ma che boomer di nuovo il meme ok che boomer ma qua ci sta erodendo il cervello sì sono d'accordo e diciamo sono scenari per esempio io tutte queste storie le ho trovate su giornali stranieri no perché soprattutto americani il paese il paese le monde perché sono giornali che hanno grandi strutture di inchieste cioè hanno messo in piedi delle redazioni dove fanno delle inchieste che devono essere super verificate vanno a fondo vanno in paesi dove tecnicamente non ci dovrebbe fregare niente invece scopriamo che ci sono un sacco di connessioni tra l'altro anche con l'Italia e questo lavoro anche di debunking di cose ma per esempio ci sono un sacco di fake news sulla North Korea ti faccio un esempio tutta la roba per esempio lo zio di Kim non è mai stato sbranato dai cani è una fake news creata dalla Sud Corea molto probabilmente ed era una roba che girava sui social cinesi è interessante è lo zio di Kim che ha sbranato dei cani cioè Kim ha fatto fuori ha fatto fuori esatto è stato il contrario giuro giuro è scherzo che è probabile che accada è probabile che accada è interessante che anche loro debbano fare un po' di disinformazione perché immaginate se al posto della Svizzera ci fosse uno che butta bombe nucleari sulla nostra testa che ci passano poco sopra tu in qualche modo devi reagire devi anche rispetto a altri paesi che non ti danno retta devi anche io mi metto nei loro panni devi anche creare una contropropaganda inventando fake news tu pensa anche a Patatone che dice ma cazzo io non ho mai fatto questa roba che palle e si inventa altre robe però siamo in un'era in cui cioè questa tempesta di informazioni cioè tu pensa solo a Trump Trump cioè hanno fatto una mostra a New York con le 30.400 fake news dette da Trump in quattro anni è stupenda questa cosa perché allora il tema che è forte oggi domani sarà stato cancellato dal nuovo tweet di Trump che dettava all'epoca quando aveva l'accesso adesso poi li ha arrivati dettava l'agenda dei giornali lo stesso New York Times ha iniziato a vendere moltissimo soprattutto perché c'era Trump perché Trump era appunto diciamo prima spartiacque anche qui un grande attrattore perché però sempre con questa logica della velocità della velocità il tema di oggi è attacco quello domani sarà quell'altro e con la velocità non c'è mai il tempo di riflettere se non rifletti per me tiranno o populista è lo scenario perfetto sì sì assolutamente sono d'accordo ma guarda questo io lo vedo veramente in tutto adesso ti faccio un esempio molto concreto che ho visto qualche settimana fa che però secondo me è collegato sono andato ero giù a Roma ok avevo un paio d'ore libere fra due eventi e c'era la mostra su Escher a Palazzo Bonaparte Palazzo è bello Escher lo amo quindi vado a vedere la mostra è molto bella in realtà ci sono le opere più 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 importanti di Escher però la mostra non è una mostra d'arte perché in realtà ha un intero gioco interattivo ogni stanza ha questi due giochi interattivi in cui ci sono delle persone che si mettono davanti a queste webcam e in cui la webcam ti distorce la faccia la testa come se fosse un'opera di Escher ora io ho capito che siamo nell'epoca dove dobbiamo per forza catturare l'attenzione di tutti anche quelli che l'opera di Escher vorrebbero andare a vederla perché bisogna che tanti pagano il biglietto e ci sta però me ne metti una a mostra due a mostra invece c'era questo cumulo di cose da fare e la gente palesemente non guardava le opere di Escher cioè questa scena a un certo punto mi ha fatto scompicciare da ridere e anche arrabbiare uno dei passaggi verso un'altra stanza dove peraltro c'erano le opere più belle di Escher è bloccato da una signora molto anziana britannica chiamassi anche vecchia di merda perché era veramente una vecchia di merda che lei stava davanti a sta webcam e lei doveva farsi la foto con la webcam che le stondava la testa con l'iPad in quanto con l'iPad solo che quando metteva l'iPad la webcam non vedeva più la faccia e lei non capiva e c'erano quattro persone intorno a che le spiegavano ma non parlavano inglese e lei parlava solo inglese e io non riuscivo a passare e io ho pensato e io ho pensato proprio a questo ho detto ma perché ci siamo convinti che l'arte di Escher poi uno dei più grandi artisti del novecento non basti ad attirare persone e dobbiamo per forza richiamare l'attenzione con questi con questi giochi di prestigio che poi sono stupidissimi e creano soltanto rumore e in realtà io questo lo vedo in tutto io vedo persone che divulgano cultura su internet ma sono convinte di doverlo fare in dieci secondi in cinquanta secondi e quindi fanno questi video che sono ridicoli ridicoli perché non riesce a dire nulla in venti secondi in trenta secondi eppure sono convinte di dover puntare al numero di dover accalappiare anche l'attenzione di quello che del tuo video sulla fisica nucleare se ne sbatte i coglioni di quello che sulla biologia molecolare non sa neanche dove prendere ecco io credo che siamo talmente insicuri di noi stessi talmente insicuri anche delle cose che amiamo da aver sostituito la qualità di quello che facciamo con la quantità di quello che dobbiamo attirare e non capiamo più un cazzo Antonio non stiamo capendo un cazzo assolutamente ti devi proprio fermare cioè capire è un esercizio è un esercizio comunque questa roba questo gamification che stanno facendo a proposito di arte a me invece una volta sono andato a Madrid sono andato a Madrid ho fatto tutti i musei ho fatto un weekend ho detto vado a vedermi i musei perché quella roba che non facevo mai perché alla fine vedi la città vado a vedere mi fermo a un certo punto sull'arte concettuale io non sono un esperto di arte però cerco di studiare l'arte perché io scrivo ho bisogno sempre di immagini quindi ho capito che quello per me è un mondo bellissimo a cui attingere perché è pieno di simbologia stimoli io ho bisogno premente di stimoli anche la sera ma questa è un'altra una cosa di cui parleremo magari in un altro momento sto scherzando dopo le 23.30 dopo le 23.30 per esempio io ogni volta che mi sono trovato di fronte a Kandinsky io non sono mai riuscito a distinguere Kandinsky da un incidente stradale quindi questo era un po' il mio limite c'era una guida molto bella un'audioguida molto bella fatta a un museo e l'ho ascoltata in inglese e a un certo punto l'audioguida mi diceva guarda questo quadro ti sta facendo vedere è la rappresentazione di come lui sentiva la musica cioè lui ha cercato di mettere su una tela la sensazione che provava sulla musica sentendo la musica e a quel punto con quella chiave non quelli di Daschalli del cavolo in cui dicono è stato fatto nel 1521 in quella basilica per conto di ma chi se ne frega spiegami a me che io non ho fatto una chiave dammi una chiave allora ha fatto una cosa difficilissima mettere la musica su una tela cioè quello che lui la stessa cosa all'urlo di Munch è la sua sensazione è il suo interiore che stava cercando di descrivere e lì ho avuto una chiave ho detto cazzo ma una roba che appunto per me sembrava una carbonara rovesciata in realtà è lui che sta cercando di spiegare una cosa che è inspiegabile quello che provo io sentendo la musica ed è una roba bella che ti dà però degli strumenti non per fare il figo a cena ma per capire meglio te stesso per umanizzare una volta ho avuto come ospite Iago lo scultore molto bravo e lui diceva che uno dei motivi per cui poi è diventato uno scultore mi ha detto io avevo un'intelligenza materiale che era molto diversa da quella che c'era nelle scuole quindi a scuola io ho fatto fatica perché la mia è un'intelligenza fattiva materiale ho usato proprio questa parola e dice però uno dei motivi per cui ho fatto questo lavoro lo scultore è perché mia madre mi portava a vedere San Pietro e diceva ecco la pietà questa cosa che è grandiosa per cui ci sono persone che vengono dal Giappone dall'America hanno fatto 20 ore di volo per vederla questa cosa l'ha fatto un essere umano allora Iago diceva umanizzando una cosa così complessa mi ha fatto capire che potevo farcela anch'io e oggi abbiamo Iago allora anche qui forse cioè se a scuola adesso ma non voglio fare il disco però cioè umanizzare una cosa così complessa la mamma l'ha fatto perché era una bravissima maestra una persona che aveva accolto cioè perché dire io non avrei mai detto ma mai avuto questa lucidità mi sarei soffermato nel dire delle banalità lei ha detto l'ha fatta un essere umano e lui ha detto a cazzo la posso fare anch'io è così è così ma guarda che in realtà io questo lo vedo moltissimo anche quando vado a parlare nelle scuole e cose del genere io vedo che ci sono delle cose semplici da dire semplicissime che aprono la testa delle persone qualche mese fa io ho fatto un intervento in una scuola in cui ho parlato dell'amore mi hanno chiamato per parlare dell'amore io sono andato a un certo punto io ho detto la cosa che certo anch'io l'ho imparata nel tempo però per me è la cosa più semplice del mondo è una cosa che ripeto anche nel newsletter l'amore non è l'amore che ricevi è quello che riesci ad offrire mi è arrivata una mail di questo ragazzo di 17 anni che mi ha raccontato la storia della sua vita ok mi fa sai io io ero una persona convinta di non poter essere amato perché perché ho avuto una ragazza che però poi mi ha lasciato e da allora sto molto male dicendo quando mi hai detto quella cosa lì mi hai aperto un mondo ok perché non ho mai pensato che in realtà è il punto che io devo riuscire ad amare e che io ce l'ho questa capacità ok queste cose qua che sono semplici perché sono veramente basilari noi non le raccontiamo più Antonio non raccontiamo più queste cose qua il l'ha fatto un essere umano o pensa soltanto inerente l'intelligenza artificiale ok che adesso si apri un giornale e ti dicono eh beh Mid Journey è già Picasso Mid Journey è già Kandinsky e quando tu dici piano però cioè Kandinsky aveva un'intenzione dietro quello che faceva quindi è di nuovo un essere umano che la fa è una cosa semplice da dire ma la gente ha smesso di pensarci del fatto che Mid Journey non è un essere umano e questo fa tutta la differenza del mondo ci avrai sempre sapendo una che ti dice beh ormai è indistinguibile l'essere umano un paio di palle per Kandinsky non è così per chi stava vicino a lui o per chi lo conosce no però il punto è tornare ad essere curiosi dell'essere umano che è una cosa di nuovo semplicissima però noi lo stiamo raccontando no e questo disumanizza questo poi crea quelle quelle incertezze che si tramutano nel ho bisogno dell'uomo crea degli zombie per usare un tema a te caro e se sei uno zombie io ti riesco a manipolare benissimo se invece hai un pensiero critico quando io inizio a fare tutta una serie di mosse che ripeto sono sempre quelle le best move dei tiranni sono sempre le stesse in ogni stato in ogni epoca sono sempre le stesse cambiano solo gli strumenti lo faccio con TikTok piuttosto che con l'intelligenza artificiale come sta facendo Trump sta usando l'intelligenza artificiale in maniera malevola così dicono un po' di inchieste però la best move è sempre quella i metodi sono sempre quelli e una una cosa che avevo letto prima di venire qua che ho ripreso in mano qualche libro di filosofia per fare un po' il figo perché ho detto vengo qua quando mi massacra stavo dicendo a Ricco io ho fatto filosofia non mi ricordo niente io non faccio interrogazioni di filosofia tranquillo avevo paura di questa cosa e ho trovato una roba che mi ero segnato di Aristotele che era bella diceva lo scopo della vita è la felicità la ricerca della felicità in questo senso la ricerca della felicità per lui era la realizzazione di se stessi che torniamo all'incertezza al discorso iniziale cioè felicità è la realizzazione di se stessi dei propri sogni ma io dico una cosa a parte Aristotele che so che ci ascolta il nostro ascoltatore è affezionatissimo per dire è di una potenza questa frase cioè felicità è realizzazione di quello che vuoi fare non di quello che ti cioè una cosa è stata compresa così tanto tempo fa poi ce la siamo persa completamente è arrivato qualcuno che ci ha detto no in realtà non è in questo mondo ma è in un altro mondo la felicità però è così è così quindi questa vita di base perché essere felici quando la felicità è da un'altra parte e invece no perché poi stavo ragionando anche su certe cose dell'antichità no questa cosa anche del Carpe Diem dei Romani cioè quando la vita è questa qua e c'è solo questa quante cose puoi fare e quante cose hanno fatto no anche poi nel bene e nel male però nel senso parliamo proprio di curiosità no perché poi quel popolo è stato spinto tantissimo dalla curiosità anche i greci i romani hanno copiato dai greci però hanno innovato anche loro e hanno fatto qualcosa che è durata nel tempo ma perché c'era il Carpe Diem se c'era qualcuno diceva non è questa la vita importante è da un'altra parte certo probabilmente che cosa davvero sarebbero state no gli acquedotti il spettacolo teatrale sono d'accordo sai c'è mi hai fatto venire in mente in realtà io una delle delle citazioni più belle che mi capito di leggere in realtà è da Agostino Agostino a un certo punto fa questo ragionamento e dice guarda che la felicità non è il raggiungimento di un obiettivo la felicità è dare frutto cioè prova a guardarti come un albero l'albero nella sua genetica ok dà un frutto la tua felicità è dare il tuo frutto ovvero essere quello che sei e quindi imparare qual è il tuo ruolo imparare a fare quello che in qualche modo eri destinato a fare e questo è importante perché anche qua di nuovo nella disumanizzazione noi abbiamo orde di persone che imitano coloro che ammirano abbiamo modelli che convincono non so il quindicenne di dover giocare a Minecraft per 20 ore al giorno per potersi realizzare e magari quel quindicenne avrebbe altri talenti e se solo avesse il coraggio un po' di sperimentare e l'ambiente che gli permette di sperimentarsi potrebbe scoprire che magari c'è un talento nella musica oppure c'è un'empatia particolare nei confronti di certi tipi di persone magari è bravo nel volontariato magari è una persona che può spendersi in altri modi magari è bravo a parlare è solo che noi non lo facciamo più perché non abbiamo più lo spazio di quella curiosità noi non ci trattiamo più come alberi da frutto forse non l'abbiamo neanche mai fatto veramente e in realtà la felicità è quella cosa lì cioè quello che diceva Nietzsche diventa quello che sei tu sei qualcosa e la tua vita è l'occasione per scoprire quello che sei sperimenta divertitene farlo capito si curioso per me la filosofia è sempre stata questa cosa qua certo e la rabbia sociale nasce credo da questa non ricerca che tu fai certo perché a quel punto se non ti sei realizzato tu odi il mondo e quindi come dicevamo anche prima di iniziare a registrare parte dal suonare il clacson fino ad arrivare alle cose più più gravi cui porta alla frustrazione i tiranni partono molto da un sacco di frustrazioni si nutrono di questo si nutrono di quello e si nutrono della tua frustrazione della tua mancanza di autostima e attaccano chi ce l'ha se ci fate il caso sono sempre gli obiettivi delle elite fantomatiche ma anche reali dove che è gente ma poi a me viene in mente un'altra cosa di Nietzsche la morale degli schiavi gli schiavi contro i signori gli schiavi che usano tutta la retorica del loro sono i cattivi i signori e noi siamo le vittime lui intendeva schiavi e signori questa cosa degli schiavi gli schiavi sono quelli che di nuovo non hanno realizzato se stessi i signori sono coloro che hanno ascoltato le loro passioni e hanno realizzato questa frustrazione verso anche qui cazzo la roba di cento e passa anni fa è attualissimo orca miseria e quante quante risposte ci sono già dentro questa frase quanto è pericoloso già all'epoca ci diceva prima del nazismo quanto è pericoloso un frustrato nella società quanto è pericoloso insegnare la frustrazione fomentarla anche con tutta questa competizione no challenging appunto come diceva prima far continuamente ridere devi essere per forza spirituoso devi essere per forza performante i filtri sempre il figo sempre il figo è l'infinity gesture sempre il figo e quindi tutte le incertezze devi nascondere sotto il tappeto e poi ti esplodono fra le mani e poi io qui vorrei anticipare perché io già vedo il commentatore che dice ma puoi realizzarti soltanto se hai fortuna nella vita se sei realizzarsi nella vita non significa mica fare l'influencer o essere famoso anche perché ricordiamoci che per la gran parte delle persone essere famosi è una maledizione terribile anche per essere famoso in qualche modo devi poter dare frutto nell'essere famoso se no ti distrugge vedi Johnny Depp Amber Heard vedi tutto quello che sta succedendo Carco Bay citavamo prima quindi ecco Marilyn Monroe e via dicendo realizzarsi significa una cosa molto più ampia significa magari ti accorgi che realizzarti significa trovare la persona giusta c'è gente che si realizza diventando genitore gente che si realizza invece facendo un certo tipo di lavoro che porta un certo servizio a qualcuno a cui tieni cioè realizzarsi significa tante cose noi oggi siamo chiusi in questa cosa noi vogliamo essere popolari vogliamo essere ricchi vogliamo vogliamo tutte cose quantitative ok e la realizzazione non è quantitativa certo è la tua qualità sì continuiamo a elemosinare la riconoscenza degli altri la stima degli altri no se ci pensi comunque il like è la nuova valuta corrente no cioè questa cosa di continuare a chiedere di cui sono vittima anch'io sui social cioè poi è un tema veramente fortissimo è spinoso molto spinoso molto però questa cosa è vera sì 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 qualcuno dirà adesso di nuovo ormai anticipo questi commenti ma anche voi state cercando like con il video sì però la differenza è che cioè nel senso io questa cosa che faccio è veramente una cosa mia spontanea capito cioè io a me non fa male cercare il like e poi di nuovo non è una cosa che faccio spasmodicamente infatti io faccio video di due ore e mezza in cui sicuramente non cerco la viralità però il punto è trova l'ambiente trova il contesto in cui puoi dare quel frutto e alcuni lo troveranno facendo cose su youtube altri scrivendo libri altri diventando genitori buoni fratelli buone sorelle buone sorelle cioè ci sono tanti ambiti bisogna però tornare a essere un po' aperti vorrei concludere questa chiacchierata e poi passiamo al Q&A con un passo in più abbiamo parlato di intelligenza artificiale tu che hai studiato la tirannia vedi l'intelligenza artificiale non solo come un mezzo utilizzato da tiranni perché l'abbiamo già detto quello sì ma l'intelligenza artificiale potrebbe diventare una nuova tirannide secondo te sì cioè segue l'algoritmo che tu hai descritto in questo libro sì perché purtroppo è fatta da da esseri umani e gli esseri umani chi sta chi sta seguendo l'etica in questo momento dell'intelligenza artificiale la stanno seguendo un piccolo gruppo di persone in America e in Cina dell'America qualcosa sappiamo ma sono aziende private della Cina non sappiamo niente e se questa intelligenza artificiale è nutrita con Hitler o Antonio Razzi è loro Razzi e Hitler come nutrimento di una IA potrebbe essere quasi divertente prenderebbe però poi non è solo quello è che in realtà per come la sto vedendo io ha delle potenzialità sempre più forti e purtroppo poi quando le cose vanno nelle mani degli uomini non è detto che è come la bomba atomica io stavo parlando l'altro giorno con un ingegnere informatica che mi diceva è paragonabile alla rivoluzione industriale l'intelligenza artificiale solo che non ce ne stiamo rendendo conto perché la rivoluzione industriale l'hai vista cioè a un certo punto c'era un mondo agricolo e vedi le ciminiere il fumo la gente che smette di lavorare nei campi e gli danno una divisa e va al tornio no? per dire questa cosa invece non la vedi ma sta accadendo quindi quella portata ma non la stiamo vedendo che è una cosa terribile terribile perché non abbiamo ancora gli strumenti io tra l'altro la uso anche per scrivere delle cose nel senso che mi serve nella ricerca delle fonti di certe cose oppure per fare degli elenchi cioè io non sono luddista ho molta paura ma non sono un po' il luddista sulle cose dico solo che chiaramente poi come la bomba atomica nelle mani degli uomini speriamo che ci sia poi un modo di trovare un'etica per dare un senso alla tecnologia perché poi non bisogna mai rigettare la tecnologia cioè io sono sempre io quando venne fuori internet negli anni 90 ma a me ha cambiato la vita certo quindi io credo che possa cambiare la vita di un ventenne di oggi e sicuramente troveremo il modo 30 anni fa si diceva la musica morirà con Napster ti ricordi Napster non è morta non è morta non è morta non sta morendo con Spotify si evolverà diranno probabilmente ti fregherà il lavoro riuscirà a scrivere l'intelligenza artificiale un libro come il tuo probabilmente sì io farò un'altra cosa che cazzo me ne frega ma in realtà io credo che pensa al discorso sui libri ma questo lo possiamo fare sugli spettacoli teatrali ci sarà sicuramente un grande mercato di cose che verranno colmate dall'intelligenza artificiale io credo che si creeranno due mercati cioè alla fine dei conti si creerà un mercato più cheap più economico in cui tu potrai leggere i libri dell'intelligenza artificiale che ovviamente avranno un costo molto minore poi ci sarà il mercato di elite come i vinili oggi i libri scritti da esseri umani un giorno saranno come il vinile una cosa più vintage più nobile non lo so è vero è uno scenario però è uno scenario è uno scenario possibile senti qua ultima domanda per concludere è una domanda di rito che noi facciamo i nuovi ospiti tre libri che per te sono stati importanti nel corso della tua vita di qualsiasi ambito saggistica romanzo però tre titoli che dici proprio questi per me sono stati importanti un marziano a Roma flaiano una storia bellissima ok non ho mai letto questo bello a un certo punto a terra uno dei più importanti parchi di Roma a Villa Borghese una navicella ed è bello vedere che cosa succede a questo perché è molto in linea con quello che abbiamo detto oggi ok ok allora la normalizzazione di un evento interessante molto bello scritto da il più bravo autore di satira italiano secondo me che è stato anche sceneggiatore di Fellini un po' chi lo sanno bravissimo poi vi direi un saggio che si chiama irresistibile che parla dell'addiction cioè parla di come il gaming e gli smartphone il successo delle piattaforme di gaming e degli smartphone si è basato sulla come dire accendono dei sistemi neuronali che sono gli stessi della cocaina quindi il tema è quel libro si apre con Steve Jobs lo dice il libro quindi lo diamo per vero Steve Jobs che torna a casa dopo aver presentato l'iPad nuovo e dice ai propri figli voi questo non userete mai e da lì pensavo facciamoci una striscia ragazzi a piedi nudi ipad mettiamoci una striscia sopra ah no papà ah scusa perché ho visto che era piatto scusa papà no perché ho già preso la carta di credito sconsigliamo l'utilizzo di ipad ovviamente sì esatto non della cocaina invece no scusate no 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 stavo scherzando stavo scherzando papà c'ho satira ragazzi quindi questo me ne manca un terzo che cosa vi posso dire qualcosa che sto leggendo ah il turismo del terzo Reich ah me ne hanno parlato di questo un bellissimo libro anche qui vi dico solo la scena iniziale che poi io spesso prendo i libri leggendo la prima pagina o o in mezzo o la fine sono pazzo e allora questa coppia il terzo Reich era già come dire al meglio delle sue possibilità ma l'Europa non lo sapeva quindi in Germania la Germania è aperta arrivano dei turisti arriva questa macchina dei turisti inglesi si fermano al supermercato diciamo sono molto contenti perché hanno visto le vallate la natura dei paesaggi così quindi in questa situazione di Elia che a un certo punto si avvicina una mamma dall'aspetto terrificante che piangendo gli dà la figlia in mano a questa coppia e gli dice per favore portatela via era una donna ebrea e questi che non sapevano cosa stava succedendo si prendono questa bambina e si la portano in Inghilterra questa è l'immagine iniziale di quel libro e spiega un sacco di cose e proprio quel concetto di frustrazione umiliazione che ha portato poi a questa rabbia sociale per cui quando arriva un mentecatto che dice non vi preoccupate perché voi avete ragione ad essere così incazzati col mondo io ho la risposta per voi perché li credono perché c'è tutta questa roba un altro sempre questo libro spiega di come la Francia a un certo punto manda dei soldati magrebini in Germania sapendo che c'era già un'attitudine molto razzista proprio per umiliarli quindi di nuovo l'umiliazione ci sono tante risposte in questo libro attraverso il punto di vista del turismo è una cosa agghiacciante mamma mia molto molto interessante mi segno questi titoli perché mi mancano quindi grazie per i consigli grazie a voi e caro mio è stato un grande piacere è stata una bellissima cogitata quindi veramente grazie io vi consiglio di leggere il libro diventa un tiranno magari nella community di Daily Cogito arriva ovviamente non il presidente quello sarò io ma il vice presidente della prossima della prossima repubblica filosofica in stile platonico però ovviamente con un sacco di decapitazioni quello che succede no non dovevo dire l'ho rovinato tutti i piani Antonio grazie grazie sprizza la cicuta grazie mille per questa chiacchierata adesso per chi è in live non uscite perché andiamo a leggere i vostri commenti e a rispondere un po' per chi è indifferita sarete ovviamente incarcerati quando verrà il momento però nel frattempo sarà troppo tardi per discolparvi mettete mi piace condividete insomma fate conoscere tutto quanto Daily Cogito ai vostri amici e il link in descrizione per il libro di Antonio grazie mille grazie signore e signori alla prossima e grazie per l'ascolto ciao ciao ciao